Trovato la guida e scortato verso l'uscita, visto che andarsene in giro per i fatti propri è illegale, venne caricato su un minibus e per la prima volta mi ritrova immerso nella capitale nord coreana. Pyongyang si presentava ai miei occhi come una città poco trafficata ed estremamente pulita, dove sotto molti aspetti il tempo sembrava essersi fermato a 30-40 anni fa. Poche macchine e mezzi pubblici, la gente si muoveva per lo più a piedi o in bicicletta. Grazie a tutti! I pochi automobilisti non sembravano fregarsene molto dei pedoni che attraversarono la strada. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ho raggiunto l'albergo, che non si presentava affatto male, la guida incaricata di aspettarmi stazione, che poi sarebbe sparita poco dopo, visto che le vere guide del mio itinerario sarebbero state altre due persone, mi ritirò il passaporto, diciamo, in via precauzionale, l'avrei riavuto indietro solamente all'uscita dal paese. Mi diede poi una spiegazione delle regole a seguire in Corea del Nord, regola che naturalmente già sapevo, però feci fita di non sapere, raccomandandosi di non provare mai a lasciare l'albergo, senza l'accompagnamento delle guide, motivando questa affermazione col fatto che noi stranieri, se lasciati soli, potremmo andare incontro o vedere cose che ci rimarrebbero difficili da comprendere. Non so bene a che cosa si riferisse. Mentre aspettavo il resto del mio gruppo, che avrebbe raggiunto Pyongyang in aereo poche ore dopo di me, notai che l'albergo era vuoto, a parte il personale, non vi erano altre persone. Parlando un po' con la guida che poi sparirà, e poi con le mie guide chiamiamole ufficiali, loro mi confermarono che pur essendo pieno periodo turistico, pochissimi stranieri erano presenti e attribuivano la causa ai venti di guerra dovuti alle forti tensioni con gli americani, ma soprattutto alla morte dello studente americano, avvenuta tre settimane prima del mio arrivo in Corea del Nord. In effetti è comprensibile che le persone vogliono tenersi allarga da questo paese, visto quello che succede. Per chi non lo sapesse, lo studente in questione è lui, Otto Warren Beer. Esattamente come me, Otto aveva deciso di partecipare ad un viaggio organizzato in Corea del Nord, tra la fine del 2015 e inizio del 2016. Durante questo viaggio viene arrestato con l'accusa di atti ostili verso il regime, avendo rubato un poster con un'immagine di propaganda del regime nordcoreano, e condannato a 15 anni di lavori forzati. Ebbene sì, semplicemente per un poster, perché in Corea del Nord anche il semplice fatto di piegare un'immagine da figurante leader, qualsiasi cosa che si riferisca al regime, è considerato un crimine gravissimo. Otto viene rilasciato un anno e mezzo dopo, in coma ed oramai in fin di vita, riportato a casa a Cincinnati in Ohio, morirà pochi giorni dopo. I nordcoreani con cui ho parlato si dissero molto dispiaciuti della morte del ragazzo, ma che allo stesso tempo se l'era andata a cercare. Io avrei tanto voluto dirgli, ma si può sapere che cazzo gli è successo mentre era in carcere? Che cosa gli avete fatto? Perché è finito in coma? Visto che nessuna vera spiegazione alla sua morte è ancora stata data, ma visto il contesto in cui mi trovavo e temendo un po' di fare la sua stessa fine, ho preferito annuire le loro affermazioni e rimanere in silenzio. Era oramai ora di andare a letto e recuperare le energie dopo un lungo viaggio in treno. La mattina dopo, la mia avventura in Corea del Nord avrebbe avuto inizio. Il mattino dopo, fatta la conoscenza del resto dei compagni del mio gruppo, il nostro primo giorno in Ternor Coreana può avere inizio. Scortati dalle sempre presenti guide, mettiamo piede fuori dall'albergo. Veniamo caricati sul minibus, nella totale indifferenza dei passanti. Grazie a tutti, grazie a tutti. A poco a poco ci lasciamo la città alle nostre spalle, alla volta della campagna nordcoreana. Strade fantasma, completamente deserte, con l'eccezione di alcuni passanti che incontriamo ogni tanto, intenti a camminare ai lati della strada. A differenza di Pyongyang, il manto stradale al di fuori della città è davvero in pessime condizioni. Le buche sono quasi onnipresenti. Ecco com'era stare seduti nel minibus. Molte buche più avanti e diversi salti dal sedile. arriviamo alla prima tappa della giornata. Sono la DMZ. Per chi non lo sapesse, la DMZ, o zona demilitarizzata, è la linea di confine che separa le due Coree, quella del nord da quella del sud. Perché esiste? Cercherò di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile. Originariamente, la Corea era un'unica nazione, ma agli inizi del 900 venne occupata dai giapponesi. Alcuni decenni dopo, alla fine della seconda guerra mondiale, il Giappone sconfitto deve cedere la penisola coreana alle potenze vincitrici, Stati Uniti e Unione Sovietica. Così, esattamente come era successo con la Germania, americani e russi si spartiscono la Corea. I primi si prendono la parte sud, e i secondi la parte nord della penisola, stabilendo la linea di confine all'altezza del 38esimo parallelo. Succede poi che, pochi anni dopo, nel 1950, Kim Il-sung, che era capo della Corea del Nord da due anni, supportato da Cina e Unione Sovietica, decide di invadere il sud filoamericano, con l'intento di riunificare la Corea. In un primo momento, Kim e compagni sembrano avere la meglio, conquistando quasi tutto il sud. O detto quasi, perché negli uti dei sud coreani arrivano gli americani, che riescono a spingere verso nord le truppe avversarie. Succede poi al contrario, sud coreani e americani provano a lanciare un'offensiva, con l'intento di conquistare il nord, ma vengono respinti a loro volta, dai coreani del nord appoggiati dalla massiccia presenza delle truppe cinesi di Mao. E fu così che dal 1950 al 1953 ebbe luogo la guerra di Corea, che si risolse in un nulla di fatto, nessuno era riuscito ad ottenere quello che voleva, con un numero impressionante di morti, un paese spaccato in due, diviso da una linea di confine, conosciuta oggi come DMZ. Mamma mia che fatica, però ce l'ho fatta. C'è però una piccola curiosità in tutto questo. Alla fine della guerra, tra le due coree, viene firmato l'armistizio, ma non la pace. Quindi tecnicamente ancora oggi le due coree sono in guerra. Ed è per questo che la DMZ, al contrario di quello che suggerisce il suo nome, è uno dei posti con la più alta presenza militare al mondo. Da entrambi i lati, migliaia di soldati sono pronti a farsi la guerra in ogni momento. Ed è anche per questo che la DMZ viene considerata una delle zone più pericolose al mondo. La guerra di Corea, e tutto ciò che ne consegue, ha contribuito a sviluppare un forte sentimento anti-americano tra il popolo nordcoreano, che tutt'oggi rivendica la parte sud, volendo sbarazzarsi ad ogni costo degli invasori, che sono appunto gli americani. Daniele, come è stato il viaggio? Un po' bumpy. C'era un po' di buche, dai. Ah, qualche buchettina, sì. Uomo, più telecamera, uguale, non ci piace molto. Mi viene impedito di filmare. Inizia il nostro tour della DMZ, con passaggio obbligatorio per il negozio di souvenir. Questa cosa sarà molto ricorrente durante i vari spostamenti. Ogni volta che inizieremo, o finiremo una visita guidata, le nostre guide ci porteranno la zona souvenir, e faranno un leggero pressing su di noi, per spingerci a comprare qualcosa. Poi arriva lui, l'ufficiale nordcoreano che ci guiderà attraverso le varie zone della DMZ, e ci farà delle domande alquanto strane. Di nuovo, la videocamera non è gradita. Nostro amico soldato ci chiese cosa pensavamo delle sanzioni imposte dall'America al loro paese. E se l'occupazione della Corea del Sud, da parte degli americani, fosse per noi una cosa giusta? Beh, le risposte più ovvie sarebbero state Guarda che gli americani vi sanzionano per le continue minacce nucleari. La Corea del Sud, in realtà, non è occupata dagli americani. Ma in gioco c'è la nostra incolumità. Quindi, uno di noi semplicemente rispose che alcuni paesi non dovrebbero mischiarsi negli affari di altri paesi. Disposta semplice, che però contentò il soldato. Ci portano poi di fronte a questo monumento, raffigurante l'ultima firma lasciata da Kim Il Sung, la data in cui la firma è stata fatta, poche ore prima della sua morte. Qualcuno prova a svinarsela, ma viene subito richiamato. E dopo tanto tempo, finalmente potevo vederla con i miei occhi. Nella linea di confine o di demarcazione. Composta da dei semplici pezzi di cemento. Tutto quello che vedete dall'altra parte del cemento è la Corea del Sud. Grazie. Quel dannato pezzo di cemento Tutte le volte che l'avevo visto su un documentario Mi aveva sempre fatto sorgere un dubbio Un grande dubbio Ci fecero entrare in una delle casette blu che avete visto Costruita su entrambi i lati La cosa bella è che stando da un lato del tavolo Sei in Corea del Nord Ma basta raggiungere l'altro lato E sei in Corea del Sud Cambiare paese passando una parte all'altra del tavolo Che divertimento Why does the lamb love Mary so Mary so, Mary so Why does the lamb love Mary so The eager children cry Why Mary loves the lamb you know Lamb you know Sud coreani che ci guardano Terminata la nostra visita alla DMZ Ci rimettiamo in viaggio Pochi chilometri percorsi E raggiungiamo la seconda tappa alla giornata La città di Kaesong Pausa pranzo E veniamo portati in un ristorante completamente vuoto Siamo in cinque Ma ci saranno da mangiare Come se fossimo il doppio delle persone Una bella musichetta di propaganda in sottofondo Accompagna il mio grande pasto Altima Regolo Regolo Dato Regolo 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 Dato Che dici? Tutto buono? Sì, 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 decisamente. Una volta fuori dal ristorante, le persone del posto, nel vederci, sembravano totalmente indifferenti. Quasi impaurite, oserei dire. Non vedi, non vedi, non vedi. Sì, 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 sì. Non vedi. Nel vedi, non vedi. Perci, non vedi. Disturbando qualcuno che si è rapisolato, arriviamo su un punto panoramico, nel quale si può ammirare la città di Kaesong dall'alto. Ma sembra che qualcuno sia stato qui poco prima di noi, che sia uomo animale, non ci ha dato saperlo. Colte la pioggia improvvisa, è tempo a ritornare sul minibus. Ma prima, qualche foto all'estato del leader. Ci hanno appena vietato di salire le scale, quindi non possiamo avvicinarci. Sulla strada del ritorno, verso Pyongyang, ci fermiamo per fare visita ad un tempio buddista. Ufficialmente, il governo nordcoreano riconosce la libertà di culto, anche se varie organizzazioni umanitarie hanno segnalato più volte violazioni dei diritti umani nei confronti di coloro che hanno provato ad esprimere il proprio credo religioso, essendo sostanzialmente leader l'unica forma divina venerabile. Le guide ci avevano detto che in questo tempio vivevano diversi monaci, ma a me era apparso completamente disabitato. E al posto di un monaco, l'unica persona presente era questo tipo qui, che ci ha illuminato con alcune nozioni riguardanti della storia del tempio. E se c'è la piscina qui, non riesco ad arrivare al monumento! Oramai prossimi, al ritorno in città, facciamo una brevissima sosta per fotografare l'arco della riunificazione, che simboleggia appunto la riunificazione delle due coree, con la speranza che un giorno potrà accadere veramente. Tornate a Pyongyang, alla gata! Prima di cena, un po' di attività fisica. Si va a giocare a bowling. E anche questa volta, il posto è completamente deserto. Siamo gli unici presenti. il posto è il posto è il posto, non è il posto? No Com'è Engrì? E' in stracca? E' in stracca? E' in stracca? E' in stracca? No Ottieni Opportunist Non Chiampe Non 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 Guarda qui Danielino, avresti mai detto di giocare a bowling in Corea del Nord? Assolutamente no. Beh non lo stiamo facendo, stiamo giocando a bowling in Corea del Nord. Questa è una palla da bowling se non ci credete. E pesa una tonnellata. Eccolo pronto. Massima concentrazione. Il risultato è eloquente. Allora un commento a caldo. Lo so, lo so, faccio cagare a bowling. E dopo il bowling, barbecue coreano. It's dinner time. Ple님이, come questa giornata? In uno stesso modo, come questa giornata? Esatto! Esatto! E' cosa parvi? Carsi! Car Türuro! Una missa con il mio amico coreano. E' pravi dir lo so, da ingresso. Mi? So So You just came today So you're gonna have a good time tomorrow With us, right? Excited Good night It's been a long day We are all tired It's time to go to bed Good night Pyongyang See you tomorrow morning I'm gonna have to go to bed Why do you think in the morning? When I wake up, I'm gonna have to go to bed New day, new destination Let's go again Pyongyang Thank you Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi è stato concesso a filmare all'interno. La guida del palazzo, questa signora qui, mi aveva preso un po' di antipatia, perché secondo lei non sembrava molto interessato a ciò che c'era dentro. Forte e sostenitrice dell'ideologia Juche, mi disse di tenere ben a mente che questa idea si sta diffondendo e si diffonderà in tutto il mondo. Che cosa strana quando vivi rinchiuso nel tuo piccolo mondo e non hai la minima idea di cosa accada al di fuori dei tuoi confini. Ah, l'ideologia Juche, cognata dal supremo Kim Il Sung, sta ad indicare la capacità di una nazione a sopravvivere unicamente con le proprie risorse, detto in maniera supersintetica. Ma ideologia a parte, il mio interesse è rivolto a qualcun altro, a lei per la precisione, una fata solitaria. Ma ti metti davanti tutte le volte, che cazzo? C'è la figa? Tu me ti metti davanti. Allora, bravo Danielino, spostati. E fammi un sorriso, un bel sorriso coreano, fammelo, fammelo, niente. Non mi cagava proprio. Mi fanno poi accomodare su un terrazzo, dal quale si gode una vista niente male. Allora, scuola da... Che cosa sarebbe quello? Telo ginseng. Siamo sicuri? Pare, non stai parando? Faccio un primo piano, vediamo. Ok, vorrebbe di sì. Seppure strada. Com'era? Sa di te. Sa di te? E' il tic che deve sapere. E dopo la sosta per il pranzo? A pancia piena, siamo tutti pronti per una bella rampicata. Ken twanche per la sosta per il pranzo? Come捍ere. Seppure strada. S coopere a piang. Grazie a tutti 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 Then I'm going down Grazie a tutti E un'altra giornata Voglio il termine Have a good night Pyongyang